ciao a tutti amiche creative bentornate sul mio canale in questo tutorial vi mostro come ho trasformato completamente una vecchia libreria anonima in una più bella e personale mi sono ispirata ad una delle tante librerie in stile shabby chic che ho trovato sul web ma il mio progetto sarà super economico infatti utilizzerò una libreria che avevo già in casa e voi volendo potrete acquistarne una a basso costo nei negozi dell'antiquariato oppure realizzarvela da voi con un po di pazienza per questo progetto utilizzeremo la tecnica del decoupage e quindi ci serviranno delle carte io ho scelto di riciclare le pagine di un vecchissimo libro poi una penna forbici un goniometro una squadra un pennello con la vinilica da diluire in un po d'acqua e una striscia di cartone per la decorazione finale ci serviranno inoltre dell'acrilico nero una spugnetta delle mezze perle bianche un fiore in resina un pennarello nero e per finire degli stencil bene iniziamo preparando la carta strappo le pagine dal libro e in seguito nel ritaglio i bordi seguendo la linea dritta che ho tracciato con penna e righello dopo aver diluito la colla vinilica con un po d'acqua la cospargo in piccole sezioni sulla libreria in seguito ci posiziono sopra la carta stando attenta che non si formino delle bolle per rendere il tutto omogeneo stendo la colla vinilica anche sulla carta e procedo così in modo semplice e non particolarmente preciso finché la mia libreria non è completamente rivestita adesso arriva la parte in cui abbiamo bisogno di essere molto precise ma non preoccupatevi è tutto molto semplice basta avere solamente un pochino di pazienza devo andare a realizzare una sorta di sfondo superiore che è molto presente nelle librerie in stile shabby chic utilizzerò del cartone e come vedete anche questo è un materiale di recupero seguendo le misure della parte finale della mia libreria vado a tracciare sul cartone una sorta di corona centrale aiutandomi con una squadra e un goniometro quando sarò soddisfatta del disegno ritaglio la sagoma con le forbici o con un taglierino se voi preferite potete realizzarla con una tavola di legno ovviamente utilizzando gli strumenti appositi oppure saltare direttamente questo passaggio adesso continuo incollando la mia sagoma di cartone sulla libreria e quando sarà asciutta e salda la rivestisco con strati di colla e carta come abbiamo fatto all'inizio per l'intera libreria e la lascio asciugare almeno per un'intera giornata e adesso per dare una finitura protettiva possiamo utilizzare della vernice trasparente apposita ma io ho scelto di dare direttamente una passata di colla vinilica pura non diluita che darà sia una patina lucida che una patina protettiva e la lascio asciugare per almeno 24 ore quando la mia libreria è pronta vado a rifinire e dare profondità a tutti i bordi tamponandoli con una spugnetta con dell'acrilico nero una volta che le mie sfumature saranno asciutte incollo su tutti i bordi delle mezze perle bianche io sto utilizzando quelle autodesive ma vanno benissimo anche quelle normali al centro incollo questo bellissimo fiore in resina e poi con uno stencil e un pennarello ho deciso di aggiungerci come tocco finale una scritta sweet book ed ecco qui che la mia libreria completamente nuova in stile shabby chic è pronta per ospitare tutti i miei libri e non solo per appenderla munitevi di martello e appositi ganci io però ho scelto più semplicemente di posizionarla sulla mia mensola beh che altro dire vi piace il risultato? io sono molto soddisfatta e spero lo siete anche voi mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate lasciatemi tantissimi commentini e pollici in su e se siete nuove del canale mi raccomando iscrivetevi per non perdervi tutti i miei nuovi video e i miei tutorial precedenti inoltre vi ricordo che potrete seguirmi anche su instagram facebook twitter google plus e sul mio blog tutti i link e le maggiori informazioni li trovate nell'info box bene credo di avervi detto tutto io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao